Buongiorno a tutti, grazie di darmi la possibilità di intervenire quasi tra pochi intimi, così facciamo i ricordi della storia. Io ci vengo proprio volentieri perché alla Lega Lombarda ho dedicato più di metà della mia vita, le voglio bene e per quasi dieci anni fra presidente segretario sono stato segretario della Lega Lombarda, lo sono diventato in un momento storico molto particolare, non facile, quello del cosiddetto ribaltone e colui che mi aveva preceduto si era venduto a Berlusconi e quello che ha determinato un vero e proprio sconquasso non solo se ne andarono il 50% dei parlamentari, eravamo 180 allora, ma se ne andarono anche la maggior parte dei segretari provinciali e quindi rimettere insieme i cocci è stata dura, io sono orgoglioso del gioiellino che è diventata dopo la Lega Lombarda che funzionava come un orologio svizzero e di aver realizzato quello che era il mio primo obiettivo perché io questa competizione ho l'amore per i fratelli veneti ma quando sono arrivato il Veneto prendeva il 30% e la Lega Lombarda il 25% sono andato a elezioni politiche e la Lega Lombarda ha preso il 30% e il 25% il Veneto e quello era il mio obiettivo che dovevo raggiungere. Dopo arrivati nel 2012 avevo deciso che dopo dieci anni era ora di smettere e era difficile trovare il sostituto anche perché quello che era il richiesto candidato segretario che risponde al nome di Giancarlo Giorgetti come al solito per riuscire a candidarlo devi trainarlo perché è la durla, non solo ma io ricordo anche la prima volta che fu candidato alle elezioni politiche di solito ci si sgomita per riuscire a candidarsi con lui era esattamente il contrario, bisognava convincere lui, bisognava convincere l'aspirante e futura moglie perché anche in quell'occasione era tenacemente resistente. Ha fatto dieci anni e siamo arrivati al 2012, il congresso dello tsunami che ci era cascato addosso, io avevo fatto di tutto perché nel 2012 andassimo a congresso in maniera unitaria, non fu così, io avevo parlato con Cesarino Monti che oggi qui voglio ricordare a tutti e gli avevo chiesto non candidarti perché in questo momento dobbiamo dimostrare a fronte del disastro che avevamo davanti di andare tutti uniti, di essere uniti e forti, lo ha fatto lo stesso, onore al merito a Cesarino Monti perché era un leghista con i fiocchi e contro fiocchi. La massima della mia non condivisione a chi l'ha spinto a fare un gesto del genere, una persona che aveva un tumore, aveva appena finito la chemioterapia e io sono convinto che se non avesse fatto quello sforzo Cesarino forse sarebbe ancora tra di noi, comunque io lo ricorderò sempre. Adesso siamo arrivati a eleggere Paolino, io sono contento della scelta che abbiamo fatto, io Paolino l'ho visto crescere in casa quando ero presidente come sostenitore, come militante, insieme a lui e a tutti gli altri che si sono susseguiti nel movimento dei giovani padani, abbiamo fatto prima il movimento giovani padani lombardi, poi abbiamo fatto quello federale perché io ho sempre creduto nel fatto che ci fossero, che ci dovessero essere i giovani, però un'altra chiarezza voglio dire una cosa, l'MGP deve essere un movimento nella Lega, non può essere un qualcosa, una scorciatoia per le candidature. Poi viva i giovani, portino il loro entusiasmo, facciano quello che la sinistra ha fatto nel 68, quello è il loro compito e che va condiviso. L'ho sostenuto in questo congresso, ho sostenuto la sua raccolta delle firme, l'ho sostenuto alle primarie perché io ho visto nel periodo in cui lui è stato commissario della Lega Lombarda, riaccendersi la Lega Lombarda. La Lega Lombarda si era quasi spenta, è riuscito a trovare i volontari, i militanti che sono tornati a riaccendere la sede della Lega e la Lega Lombarda è tornata ad essere quella di un tempo. Quindi concludendo auguro buon lavoro a Paolino e voglio ricordarvi però una cosa, si è discusso in questi giorni, più a livello di giornali se vogliamo, che a livello di sostanza, del famoso articolo 1 della Padania, del nostro statuto della Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Quell'articolo fu scritto così come è scritto oggi nel 1997, fisicamente l'ho scritto io, non perché fosse una cosa che passava di lì per ma perché noi nel 1996 abbiamo giurato fedeltà all'indipendenza della Padania e io non credo che nessuno di noi possa essere uno spergiuro perché io francamente lo lascerei scritto com'è, che va bene, poi andrà declinato in termini scozzesi, in termini catalani, in termini macro-regionali, va benissimo tutto, ma il punto d'arrivo deve essere ricordato. Io sono una persona, non sono un grigio, io sono o per il bianco e per il nero, l'ho sempre dimostrato, qualche volta andando anche controcorrente, ma la stessa testatagina la porto avanti ancora oggi su certi punti che riguardando l'identità sono sacri e intoccabili per quel che mi riguarda. E chiudendo voglio ricordare una cosa, togliermi un paio di sassolini dalle scarpe rispetto a tante critiche che in passato magari ho ricevuto rispetto a certe posizioni. Io rispetto all'Islam e soprattutto l'Islam, quello fondamentalista, non sono mai andato giù molto cauto. Io 15 anni fa, quando c'erano i primi problemi delle moschee fatti con i soldi dei cittadini italiani, ho portato a Lodi a passeggiare un maialino evitando la nascita e la costruzione di una moschea. Ne ho sentite di tutti i colori. Dieci anni fa mi sono messo una maglietta con cui denunciavo l'integralismo illamico e la loro intolleranza. Mi sono dimesso da ministro, ne ho viste di tutti i colori, ho sentito anche tante critiche all'interno del movimento. Hai esagerato? No, mi spiace. Alla luce di quello che sta accadendo io vi chiedo chi è che aveva ragione? Io loro. Buona pedaglia a tutti!